e comunque continui a seguire questa vicenda e che la Commissione indipendente possa essere costituita e soprattutto porti alla luce con la stessa evidenza dei fatti tragici a cui ci riferiamo porti alla luce e accerti la verità in tutti i suoi aspetti. È evidente per tutti che è una condizione indispensabile non solo perché le organizzazioni internazionali possano lavorare in sicurezza, ma anche perché il mondo, l'opinione pubblica, guardi agli interventi e possa sostenerli a condizione appunto che non si debba mai più assistere a vicende come questa. Grazie. Passiamo all'interrogazione 3.843 dei deputati Liuzzi ed altri concernente lo stato di attuazione della strategia per la crescita digitale 2014-2020. Il sottosegretario alla presenza del Consiglio dei Ministri, Angelo Ruggetti, ha facoltà di rispondere. Grazie, Presidente. Rispondo all'interrogazione in oggetto numero 3.01.843 del onorevole Liuzzi, riguardo all'attuazione della strategia per la crescita digitale. A riguardo segnalo innanzitutto che il Dipartimento per la Funzione Pubblica, mediante l'Agenzia per l'Italia Digitale, ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale italiana e di coordinare l'attuazione del piano di crescita digitale del Paese, con amministrazioni centrali e locali, definendo la strategia operativa di implementazione dei progetti che vi sono contenuti, alcuni dei quali, in ragione della loro importanza strategica nell'ottica di rafforzamento culturale digitale dell'Italia e dell'impresa, sono già stati avviati. Sottolineo in particolare due aspetti di metodo che il Governo si è dato nell'applicazione della strategia.